Ciao giovani! Torniamo al nostro vecchio amico Don Giovanni di Mozart, che da un po' di tempo ci è mancato. Questa volta vediamo insieme la scena settima e la scena ottava. Abbiamo affrontato e conosciuto il personaggio di Don Elvira, adesso entrano in scena altri due personaggi molto importanti per lo sviluppo della trama del dramma e troviamo Don Giovanni ancora una volta all'opera nelle sue arti di seduttore. I personaggi in questione sono due giovani, due contadini, Zerlina e Masetto. Nel giorno del loro matrimonio Zerlina e Masetto festeggiano insieme ai loro amici quando a un certo punto arriva Don Giovanni e vedremo quello che accade. Vi ho caricato il video dell'opera integrale, di cui ascolterete se volete e vedrete soltanto i minuti che vi interessano. Tra l'altro è una bellissima regia di Micheletto e vi faccio alcune osservazioni. Prima osservazione. Il coro dei contadini alle nozze è un coro festoso, ovviamente. E oltre al ritornello la 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 la, si ripete continuamente una frase che piacer, che piacer che sarà. Si parla dell'amore. Dell'amore di questi due ragazzi, immaginate dei ragazzi più o meno della vostra età, che vanno a nozze. E si aspettano di divertirsi, di giocare, di saltare, di ballare. Non soltanto nel giorno delle nozze, come è evidente, e si divertiranno anche in effetti, ma in tutta la loro vita. Vediamo attraverso le parole del poeta e la stupenda musica di Mozart descritto l'amore di due ragazzi vissuto nella festa, nella gioia, nell'entusiasmo, anche un po' nei bagordi e nella goliardia. Certamente è un aspetto dell'amore molto presente e che tutti amiamo. Però ricorderete anche l'ouverture, si fa riferimento a questo aspetto, ma alternato all'aspetto tragico che introduce la prima parte dell'ouverture. Ma attenzione, che lo svolgimento del dialogo e del recitativo che seguirà prelude non a una festa e a una gioia, ma subentra in questa coppia di giovani qualcos'altro. In Masetto, e ci soffermiamo solo su di lui, subentra il dolore e la rabbia del fidanzato geloso. Leggo alcuni versi. Alla fine dell'incontro tra Don Giovanni, Masetto e Zerlina, nel quale si propone di invitarli a casa sua per festeggiare le nozze ed esibisce la sua protezione sopra la coppia dei giovani fidanzati, e l'eporello nella scena che segue ci farà capire che cosa significa esibire la protezione per Don Giovanni, alla fine Masetto canta una piccola aria, una rietta di sole due strofe, in cui dice queste parole. Ho capito, signor sì, si rivolge a Don Giovanni, chino il capo e me ne vo. Già che a voi piace così, altre repliche non fo. Il povero servo deve obbedire umiliato di fronte all'evidente tentativo di seduzione da parte di questo nobile cavaliere della sua povera fidanzata. L'ingiustizia e la sopraffazione entrano nella vita di questa famiglia di contadini fin dall'inizio. La seconda strofa è rivolta a Zerlina, a bassa voce. Bricconaccia malandrina, fosti ognor la mia ruina. Vengo, vengo, dice a Leporello. Resta, resta, dice a Zerlina. È una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliera, ancora a te. Bricconaccia malandrina, fosti ognor la mia ruina, appare dentro questa immagine festosa dei due fidanzatili alle nozze spensierati l'ombra delle discussioni, l'ombra del litigio, l'ombra del tradimento, l'ombra dei sentirsi abbandonati e lasciati soli. Chiudo questa prima parte della video-lezione con questa domanda. L'amore tra luci ed ombre. Quale può essere la mia esperienza? Grazie. 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 Grazie a tutti